Perché vi dimostriamo come si può fare a pezzi un'opera in 5 minuti, più di un'opera. Cioè i falsi d'autore, eccoli qua, applausi, applausi. Prego. Grazie, grazie, grazie. Un attimo di concentrazione perché partiamo subito con la prima opera. Vorrei una pizza gustosa. Che la faccio con prosciutto, calcio e formaggio. Viva, viva, viva. Era la quattro stagioni di vivanti. Ma andiamo avanti in concentrazione con la seconda opera. Ciao, ma che bella uccelletta. Cip, cip. Ehi, vuoi stare con me? No, io preferisco stare per conto mio. Di Leopardi, la passera solitaria. Chi sa? Concentrazione e passiamo alla prossima opera. Facciamo un bel brindisi in questo punto. No, non qui. Andiamo più lontano da quella parte. Di Donizetti, il cin cin là. Vediamo la prossima opera. Un attimo di concentrazione. Attenzione, partiamo. Grosso. Devi fare la dieta. Già faccio. Dieta tutto il mese. E' una dieta. E' due dieta. E' no. E' tre dieta. E' no. E' quattro dieta. E' il cinque no. Di Alessandro Manzoni, il cinque mangio. Dieta. Voglio andare a vivere in campagna. Ecco, tutti quanti in un'operetta. E' visto? Andiamo avanti. Te li porti tutti con te. Attenzione. Prendimi l'acqua. Muoci tu. Stira le camice. E stiri tu. Di Giuseppe Verdi, la donna è immobile. Attenzione. La prossima opera è un po' di concentrazione perché è importantissimo. Dopo che hai odorato quella polverina, sembri diversa, più energica, più energica. All'alba snifferò, snifferò, snifferò. Un attimo che dico l'opera di Puccini, la tirandola. Applausi ci vuole perché state la stupefacente. Atto unico, tutto una di là. Andiamo con l'ultima opera, mi raccomando. La massima concentrazione. La 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 la. Canta. La passia, c'è la ventina. La 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 la. Canta. Non posso, c'è la matisse. Avete ascoltato? La monna di Beethoven. Grazie, buonasera. Non possiamo dare. Grazie.